Oggi ci sposteremo da Otta, seguiremo questa strada, arriveremo ai fiordi e sui fiordi fino a alles und. Nella prima tratta partiamo da Otta, saliremo in direzione di Donbass dove la linea che viene da Oslo per Trondheim si divide, faremo questo alto piano e scenderemo sul fiordo al paese di Andalnes, tipico villaggio norvegese famoso per il suo porto. Infatti vedremo due navi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.